Le Capitali Celestiniane della Pace verso il Giubileo è il progetto presentato e promosso dalla Fondazione Carispac che mette al centro dell'iniziativa l'attualità dell'eredità di Celestino V e del suo messaggio di pace. Un programma articolato in mostre, convegni e racconti musicati per diffondere la conoscenza e l'importanza del messaggio dell'eremita del Morrone esaltato da Papa Francesco che prenderà il via il prossimo 20 maggio di Zernia nel Molise e toccherà i centri più importanti della provincia dell'Aquila, l'Aquila sul Monavezzano Castel di Sangro e del Lazio Conferentino L'iniziativa vuole valorizzare e consolidare l'unità dell'intera provincia dell'Aquila Il progetto è stato presentato dal Presidente della Fondazione Carispac, Domenico Taglieri e dal Curatore Angelo De Nicola Questo progetto che sono le Capitali della Pace perché nel momento in cui è nata la guerra in Ucraina la giostra europea sul Monese che è legata alla giostra caballeresca viene trasformata in giostra europea della pace e ha avuto l'abilità nell'arco degli anni di avere un collegamento con 20 nazioni europee e quindi questa giostra europea della pace ogni anno deve sancire l'incontro dell'Europa su questo tema della pace All'Aquila la perdonanza che è l'evento per eccellenza e poi Celestino V anche per i percorsi che ha fatto che hanno visto attraversare Castel di Sangro e quindi un'iniziativa e una giornata di pace anche a Castel di Sangro e ad Avezzano legato a questo grande personaggio che è Silone Partendo dal brand che ha lanciato il Papa qui all'Aquila il 28 agosto del 2022 l'Aquila capitale del perdono abbiamo ulteriormente allargato a quello che è il territorio di competenza istituzionale della fondazione Carispa, ovvero la provincia dell'Aquila mettendo questo sottobrand che è le capitali celestiniane della pace in questi drammatici giorni di guerra sfruttando il messaggio di pace di Celestino V per il quale il perdono è la leva per sollevare il mondo abbiamo allargato alla Sulmona dove c'è la Casa Mare dei Celestini nella Marsica dove c'è la grande e straordinaria figura di Ignazio Silone con l'avventura di un padrono cristiano ma anche a Isernia dove Celestino è il padrono perché è nato lì e a Ferentino nel Lazio dove viene sepolto fino al 1327 è uno stimolo e ringraziamo di questo la fondazione Carispa che ci ha consentito di poter portare avanti questo progetto uno stimolo nei confronti delle istituzioni in un momento che è una grande opportunità alla vigilia del giubileo del 2025 e alla vigilia dell'anno capitale della cultura come sarà l'Aquila nel 2026 Grazie a tutti